Forza Italia è parte sostanziale del gruppo del Partito Popolare Europeo. Il gruppo del PPE è la più grande forza di maggioranza a Bruxelles. Se l'aeroporto di Salerno è stato inserito nei corridoi viari europei TNT, è unicamente grazie a due miei emendamenti e alla vittoria del gruppo del PPE. Un lavoro che ho portato avanti con grinta e lungimiranza da quando sono europarlamentare. Cosa vuol dire tutto questo? Che lo scalo aeroportuale salernitano con la necessaria e successiva conferma del governo Meloni ai tavoli di Bruxelles viene identificato come scalo strategico per l'Unione Europea. e pertanto con un numero adeguato di viaggiatori annui potrà accedere a finanziamenti e supporti dell'Unione Europea. Fatto mai accaduto prima e su cui nessuno si è mai speso in Europa. Nessuno. È una straordinaria vittoria dei nostri territori, sostenuta incessantemente da me, in prima persona a Bruxelles, da Forza Italia e dal gruppo del PPE. Fino ad oggi in Europa nessuno ha saputo fare di meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.